Ci sarebbe una lite per dei pulcini di Pavone all'origine del delitto di Fogliano dell'Echiana. A dire lo stesso, il famo Ahmed Rana, reo confesso dell'omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami. Il 37enne, arrestato dai carabinieri con l'ipotesi di omicidio volontario, assistito dal suo avvocato Fiorella Bennati, è stato infatti sentito a sorpresa nel tardo pomeriggio di mercoledì davanti al gruppo del Tribunale di Arezzo Stefano Cascone, dopo che nel corso dell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere. Stando al suo racconto dunque, sabato mattina sarebbe uscito con la vittima per verificare se i pulcini di Pavone, animali allevati dalla 72enne, fossero al sicuro. Erano però spariti durante il temporale e la donna avrebbe dato in escandescenza incolpando il marito. In quel momento assente, il 37enne, ex fidanzato della figlia che viveva nel casolare della famiglia, sarebbe così intervenuto per difenderlo. Da lì la situazione sarebbe degenerata fino alla tragedia. Per me era un grande amico, avrebbe dichiarato il 37enne, non ci ho visto più e l'ho colpita, utilizzando probabilmente una vanga ritrovata sul posto che a breve sarà analizzata dai RIS. Subito dopo l'uomo avrebbe preso un treno per raggiungere Prato dove aveva programmato di andare per cercare un lavoro. Spetterà adesso l'autopsia sul corpo della donna a far piena luce sulle modalità dell'omicidio e sulla compatibilità con l'arnese agricolo ritrovato. L'esamoto optico dovrà anche stabilire se la 72enne sia stata abbandonata agonizzante.